Posso dire che i documenti fa questo, quell'altro, spiegavano da qui se c'erano già noi, quanti fanno il mondo della società, se c'è questa parola che lei si è lasciata e vuole. Beh, lei è stata disegnibile, ne so che per chi fa. Poi si sta disegnibile con loro. Sì, ricordo che mi ha detto mandare la mia, anche grazie. Non so, anche se si sta disegnibile con loro, se vuoi, si faccia disegnibile con ella. Ella, in questo caso, la contattiamo, però la tua carta è diversa, la tua cultura è quella di qua. E quindi, secondo noi, vanno. Sì, bene, ma la mia ammella, il mangoro, forse va molto.